Ed eccoci qui pronti a partire con la prima puntata di Pedipedi Esattamente mercoledì alle 21 e poi in replica Cioè ci sono le repliche, non me le ricordo Ah, è insostituibile Gianluca, è inutile Allora, mercoledì abbiamo detto alle 21, giovedì alle 15 Venerdì alle 12.30 Mentre sabato e domenica alle 14.30 Dopo il Tg settimanale Dopo il Tg settimanale Ecco, e siamo pronti, quindi segnatevelo Ho fatto una brutta figura che ho messo Un pochino, niente ci fa Questa è, purtroppo, Pedipedi